Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come avete visto siamo ritornati a casa a registrare perché ho deciso di portare un contenuto diverso dal solito. Quello che è l'episodio di oggi voglio andare a parlare comunque saranno un po' di episodi, voglio andare a parlare di alcuni aspetti legati all'allenamento, alla palestra all'alimentazione, un po' così, della mia esperienza. Una cosa che mi premeva dire in questo periodo che secondo me può essere interessante è il fatto che riaprendo le palestre molti ritorneranno finalmente, diciamo così, a un allenamento naturalmente. Quindi molte volte l'approccio che si può avere nel rientrare in palestra è un approccio aggressivo, frustrati da tanto tempo che non ci alleniamo, frustrati dal fatto che abbiamo perso un bel po', per chi un po' di più, per chi un po' di meno, però quasi tutti abbiamo avuto un calo, ma è normale, è fisiologico, non allenando ci succede. Cerchiamo in qualche modo di recuperare nel minor tempo possibile i progressi persi, diciamo così. Quindi ragazzi in un certo senso spingiamo oltre la soglia, cerchiamo di dare il massimo, siamo carichi anche dal momento, dal fatto che riteniamo in palestra a rinarci con gli amici, dal fatto che respiriamo un po' fuori e questo può in qualche modo regarci un danno. Un danno che non vedremo nel breve periodo ma vedremo successivamente. Tutti abbiamo avuto uno stop, io fortunatamente poi nel corso di quest'inverno sono riuscito ad attrezzarmi per allenarmi, quindi ho recuperato un po' prima, ma molti ragazzi hanno ora la possibilità di ora allenarsi. Mi sono arrivati alcuni scontri e sono davvero felice di ragazzi che mi hanno detto beh, la mia palestra ha riaperto di nuovo, finalmente posso riallenarmi. E questa è una cosa positiva e ragazzi se cerchiamo di stare con la testa sulle spalle quest'estate probabilmente di nuovo non si ritornerà a chiudere tutto. Ma detto questo, che questo comunque molte volte non è legato specificatamente a quello che facciamo nel nostro quotidiano, la cosa interessante è dire come io posso ritornare senza farmi male. Perché ragazzi, io comunque come sapete sul mio canale tratto argomenti principalmente su powerlifting ma con questo video cerco di inglobare tutti dal powerlifter al bodybuilder al semplice amatore che vuole entrare in palestra per divertirsi, quindi è un semplice ragazzo che vuole entrare in palestra per divertirsi ma non ha un fine ben specifico, però si allena seriamente perché chi si allena giocherellando diciamo così non abbia bisogno perché non faceva prima niente e non fa niente neanche ora quindi non gli è cambiato niente, sicuramente non avrà presso granchier perché non avrà guadagnato granchier perché per avere guadagni effettivi bisogna allenarsi con costanza, con testa. Quindi ragazzi la cosa che mi vorremmo dire è non abbiate fretta. Non abbiate fretta di recuperare i gesti tecnici che facevate prima, carichi che avevate prima non avete fretta di recuperare il volume muscolare che avevate prima. Io quando ho iniziato ad allenarmi dopo circa sette mesi di stop o più avevo fatto un piccolo recupero ma molto molto leggero, non mi aveva permesso di recuperare granchier, io avevo carichi bassissimi e non solo questo ragazzi, per esempio nello squat avevo un grosso problema ad arrivare sotto il parallelo quindi quando cercavo di arrivare sotto il parallelo e non ci riuscivo facevo una piccola retroporsione del bacino per cercare secondo me, secondo comunque quando si va a fare questo tipo di esercizi di schiacciarmi e questo naturalmente ne va a pagare la tecnica, rischiamo di infortunarci e quindi i problemi sono un po' più estesi, rischiamo veramente se di botto vogliamo ritornare ai carichi alti di farci seriamente male. Quindi la cosa è allenarsi con testa, cercare di fare un 3-4 settimane brutto da dire sono 3-4 settimane perse, no! Non sono perse perché voi state riadattando il vostro corpo allo stress fisico, all'allenamento, al gesto tecnico. Come dobbiamo fare il riscaldamento ed è fondamentale riscaldarsi, è fondamentale far recuperare il gesto tecnico del nostro corpo. Per esempio come citavo prima nello squat, un box squat a me ha aiutato tantissimo. Pian pianino aumentare quello che era il grado di discesa, quindi partendo nello squat al parallelo, pian pianino andavo scendendo in varie fasi, questo mi ha aiutato di non buttarmi totalmente giù e di riprendere la tecnica. Poi col tempo naturalmente riprendete molto facilmente, non è la stessa cosa di iniziare da zero, ci mancherebbe. Cioè voi che avete un minimo di allenamento, soprattutto chi è un atleta, diciamo intermedio perché comunque l'atleta avanzato sa come muoversi, l'atleta intermedio sicuramente andrà a riprendere i carichi facilmente di un ragazzo che inizia per la prima volta ora. Ci mancherebbe, è normale questo, però mi raccomando con testa, soprattutto se voi la quarantena l'avete passata totalmente fermi, se voi avete fatto un minimo di allenamento allora ancora ancora ragazzi potete fare qualcosa, ma mi raccomando sempre con testa, quindi andate in palestra, cercate di ascoltare bene il vostro corpo, capite quanto è realmente il limite, non paragonate il momento, io riuscivo a fare 5 colpi a 150 kg di squat, ora li devo fare pure. Se non ce la fate non li potete fare, dovete scaricare, date il tempo al corpo di recuperare. Una volta recuperato ragazzi vi strassicuro che i chili ritorneranno e se vi allenate con testa aumenteranno. Io ragazzi non riuscivo a fare due colpi, mi ricordo a 120, ora ho 195 kg di squat, quindi più 25 dal massimale che era di 170, dopo 3 mesi, 4 mesi di programmazione col coach, quindi abbiamo lavorato bene sicuramente, ma il tempo, il recupero ci ha dato la possibilità di aumentare i carichi, perché comunque vediamo da un lungo stop, quindi i primi mesi sono stati un po' di recuperare. Quindi ragazzi mi raccomando, se dovete ritornare in palestra, ritornate con testa, cercate soprattutto le prime 1, 2, anche 3 settimane di lavorare un po' a ribasso. Non è una cosa specifica perché poi tutto va valutato in base alla persona, però sicuramente una cosa che vi posso consigliare è quella di ascoltare il vostro corpo, cercare di valutare a che livello siete, valutare magari gradualmente quello che posso utilizzare e sicuramente fa comodo sono gli RPE o i MAV, in questo caso l'autoregolazione se siete in grado di utilizzarla è molto importante perché vi permette di allenarvi in base al giorno, in base alla condizione che vi trovate, quindi non rischiate né di fare serie a caso, volume spazzatura o ad allenamenti buttati così, giusto perché li devo fare, ma vi permette di allenare con testa quegli esercizi che pian pianino recupererete e poi ritornate a fare con carichi che erano anche prima allenanti. Quindi ragazzi questo era un breve video per diciamo parlare di come ritornare in palestra dopo un lungo stop naturalmente. Quindi ragazzi se vi piacciono questi video tecnici dove andiamo a parlare un po' di aspetti legati al mondo del fitness della palestra, avete qualche domanda che volete che vi risponda attraverso questi video, mi fa davvero tanto piacere rispondervi, comunque lasciate tutto qui sotto nei commenti oppure potete scrivermi in direct su Instagram, trovate tutti i link in descrizione, io cerco di essere sempre più disponibile possibile nel rispondere ai messaggi e così via, naturalmente capita che qualcuno scappa per ora sto avendo problemi con Instagram, non funziona bene, non so il motivo. Quindi ragazzi io vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine di questo video, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, schiacciare al canale se non lo avete fatto e noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!